sarà un autunno decisamente caldo e in questo spazio capiremo perché intanto dobbiamo parlare nuovamente dell'emergenza coronavirus e di alcune questioni economiche che il nostro paese il nostro governo dovrà necessariamente studiare e mettere a punto alcune sono immediate come ogni anno altre più diluite nel tempo ma che comunque hanno bisogno estremo di essere decise in questo momento in breve tempo insomma ve lo posso assicurare le temperature saranno decisamente roventi e allora temperature roventi diciamo che saliranno un po nei prossimi giorni dopo l'ondata di freddo che abbiamo avuto in effetti nelle ultime ore un attimo un attimo un attimo paolo corazzon allora intanto quando si parla di meteo tu non capisci più niente noi stavamo parlando di temperature economiche tu mi dici temperature secondo te io posso rimanere qua non dire niente e basta temperature roventi mica roventi ci sono io come meteorologo effettivamente se c'è questione economica meglio che mi faccia un filino da parte è più forte di me è più forte di me vabbè vabbè allora insomma quindi se tu mi hai sentito parlare di temperature roventi hai detto che cosa sta dicendo questa non è così ecco già che ci siamo dice un po cosa succederà a livello di meteo sul nostro paese dai questo autunno va bene sono di meteorologia perché del resto non metto ci capiscono anche niente e mi seguo volentieri per questo allora in realtà no dai ragazzi in qualche modo abbiamo avuto nei giorni scorsi il ritorno di un po di freddino autunnale però guardate anche da un punto di vista meteorologico un po più di caldino tornerà per fortuna non tornerà un caldo rovente quindi avremo condizioni meteo così bollenti come forse in ambito economico però appunto avremo un autunno che farà il suo dovere quindi da un certo punto di vista ci regalerà anche delle ottobrate buone però prepariamoci anche a aprire gli ombrelli perché sarà comunque una stagione umida per le regioni centro settentrionali insomma l'autunno forse farà il suo dovere dico forse perché negli ultimi tempi ne abbiamo visti di ogni tipo di stranezze ecco forse sarà un autunno abbastanza normale però significa anche piovoso come guarda la dimostrazione che anche io ti seguo come tu segui le fonti tv sta nel fatto che ti ho rubato per il nostro titolo il termine ottobrate e tu hai spiegato ecco succederà anche a livello meteorologico ma secondo me anche a livello economico adesso spieghiamo perché paolo corazzon grazie grazie mille per questa incursione e manuela sei sempre a numero uno grazie buona giornata a tutti grazie a paolo corazzon comunque è indiscusso che il meteo interessa a tutti e quindi uno sguardo ce lo buttiamo sempre ma noi torniamo a parlare di autunno caldo da un punto di vista economico e lo facciamo con le nostre grafiche grafica numero uno sentiremo sempre più spesso quest'anno parlare di recovery fund ne abbiamo già parlato ma mano a mano che il tempo passerà sarà un argomento di maggiore discussione tutti i paesi dell'unione europea presentano proprio nel mese di ottobre alla commissione europea i loro piani di ripresa per ottenere le risorse stabilite che vediamo proprio riassunti qua 750 miliardi di euro per precisione 672 distribuite ai governi nazionali di cui 312,5 miliardi di sussidi e 360 miliardi di prestiti 209 miliardi vanno all'italia ammesso che il piano definitivo convinca l'europa e questo dovremmo per questo dovremmo aspettare solo ad aprile 2021 che è il termine ultimo in cui scade appunto il momento nel quale i paesi possono presentare i loro progetti e pensate che parliamo questi 209 miliardi sono la cifra più alta che viene data a un paese membro dell'unione europea quindi una cifra elevata a confronto dell'emergenza coronavirus che l'italia si è trovata ad affrontare e pensate che è una cifra paragonabile a oltre il 10 per cento del pil italiano pre-covid le condizioni andiamo a vedere però quali sono i punti fermi che ha messo nero su bianco la commissione europea quindi con la grafica numero 2 perché ovviamente i piani che verranno presentati dai vari paesi saranno monitorati nel dettaglio allora il 20 per cento di questi fondi che i paesi otterranno dovranno essere destinati alla digitalizzazione il 37 per cento alla green economy quindi con dei piani che garantiscano la sostenibilità anche di green economy sentiremo parlare sempre più spesso e tutti i paesi dovranno indirizzarsi proprio lì ci sono sette obiettivi chiari in quello che è il recovery plan eccoli qui energia pulita efficienza energetica nuove tecnologie nei trasporti rete di banda larga digitalizzazione della pubblica amministrazione che è uno dei punti fermi della commissione economia dei dati naturalmente spazio alle nuove necessità quindi in qualche modo cercare di adattare il paese e il sistema educativo a quelle che sono le nuove necessità il punto di partenza di tutto questo recovery plan sono le raccomandazioni paese quindi non dimentichiamoci andiamo a vedere anche l'ultima slide perché è fondamentale che i tempi sono assolutamente tassativi entro il 30 aprile 2021 i governi devono presentare i loro piani di rilancio che e questo è importantissimo indispensabile aumentino il potenziale economico creino occupazione e rafforzino resilienza insomma un autunno molto caldo siamo partiti proprio con questo concetto non solo per il recovery fund che ovviamente vede i tempi più dilatati ma che necessita di un piano di rilancio in questo momento ma anche per altre questioni le citiamo brevemente la legge di bilancio che come ogni anno deve essere presentata e approvata dal parlamento entro il 31 dicembre perché altrimenti c'è il passaggio all'esercizio provvisorio e naturalmente ci sarà da valutare anche come le risorse messe a disposizione dal governo e dall'italia possano essere collegate ai piani che la commissione europea stabilisce ogni anno quest'anno ancora di più e l'autunno 2021 sarà anzi 2020 2021 sarà naturalmente molto caldo sul fronte del coronavirus con i mercati che respirano ancora molte incertezze perché non si ha ancora conto di quelli che sono i numeri reali soprattutto in vista di un ipotetico peggioramento della situazione sanitaria naturalmente ci auguriamo che non sarà così però questo lascia intendere come insomma si navighi a vista e come questo anno sorribilis così come si dice debba essere assolutamente monitorato queste sono le pillole formative di le fonti tv alla prossima